buonasera signore e signori siamo qua perchè Scoop è diventato dottore è lui o non è lui ma certo che dov'è? dottore dove scappi? mi è scappato il dottore vado a riprenderlo attenzione la schiena tutta iniuda vai vieni corri prendilo ecco peso bravo anch'io ti voglio benissimo allora volevamo sapere chi è il dottore dell'anno è lui o non è lui certo che è lui è diventato dottorissimo è di là chi è? dov'è? è quello è quello chi è? è lui? ho preso un papà mazzo allora dici un po' ascolta da me com'è stata l'emozione di essere laureato e di dire finalmente ho ferito mamma mia ma lui cos'è che fa? e io? no lui lui è il cameraman ciao cameraman io che palle che siete siete due rompicoglioni cazzo ha detto che ti vuole bene a modo suo mister Dave e anche io te ne voglio tanto grazie per il tuo lavoro fantastico allora dici un po' la tesi su cos'era? era sul concordato bravo ci piace non so cos'è ma l'hai detto benissimo e il concordato è quando due persone trovano un punto d'accordo questo concordato è fra i paesi poveri e quelli ricchi che ci devono un sacco di soldi hanno fatto l'accordo vabbè ci dai le gnocche e siamo a pari ma le cazzo hai ragione l'hai letta l'hai letta vedi? beh l'ho studiato allora visto che siamo in vero di domande difficili cos'è la faretra? e cos'è la faretra? sei indoviniti da un free drink e cos'è la faretra? puoi farti aiutare? Robin Hood è inseparabile dalla sua faretra dammi un consiglio io ci metterai dentro delle frecce che palle ma porta frecce vabbè niente comunque ti vedi uguale allora oltretutto non avete visto qua con una gnocca spettacolare che è quella là che ha la sua morosa morosa fai ciao morosa è quella che si gira con i ricciolini fai ciao fai ciao ciao ecco quella lì è la morosa quindi capite perché è sempre così felice va bene cogliamo occasione per farti gli auguri di buona pasqua mi raccomando divertiti stasera mi fai un urlo per far capire quanto sei cazzo? no no non te lo faccio un urlo no va bene salutiamo comunque ti voglio bene anche io ti lascio dare un bacio ciao 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 ciao